L'80% della plastica che inquina i nostri mari arriva dall'entroterra, trasportata dai fiumi come il Tevere. Oggi con Puliamo il Tevere, iniziativa organizzata dall'Associazione Marevivo, decine di volontari si sono dati da fare per liberare da rifiuti ingombranti le acque del biondo fiume. Anno nuovo, vita nuova anche per le acque del Tevere, lo hanno deciso centinaia di volontari che hanno aderito all'iniziativa lanciata da Marevivo e da altre associazioni ambientaliste. Le sentinelle dell'ambiente hanno trasportato i rifiuti che galleggiano sul biondo fiume, rifiuti che poi finiscono in mare grazie agli efficaci nastri trasportatori che sono ormai diventati i nostri corsi d'acqua. Nel Tevere si sono tuffati rifiuti provenienti da una discarica abusiva sulla Niene. Esattamente sotto Ponte Solone, forse bisogna cominciarlo a dichiararlo e dichiararlo forte. Ci sono frigoriferi da bar misti a tonnellate di rifiuti perché qualcuno sta gestendo qualche altra cosa. Tra Ponte Matteotti e Ponte Sant'Angelo i volontari hanno differenziato e conferito in appositi contenitori i rifiuti raccolti. Al seguito di nonni e genitori anche molti bambini che si sono dati da fare. L'altra volta quando siamo impostati c'era un sacco di frighi in acqua e abbiamo deciso di pulire. Una necessità, quella di agire personalmente, dicono gli ambientalisti, dal momento che nessuno degli uffici competenti, dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi sull'isola di rifiuti galleggianti, avrebbe mostrato interesse alla situazione. Dove lo portiamo?